The Founder è un film del 2016 diretto da John Lee Hancock. Questo film racconta la storia di come Ray Kroc, un venditore, quasi porta a porta fondamentalmente di fullatori, più o meno industriali o quant'altro, si è ad un certo punto divenuto una figura chiave per l'imprenditoria americana e mondiale in realtà e di fatto è grazie a lui che è nato l'impero McDonald's. Questo impero è nato in realtà da due fratelli, in questo film interpretati da Nick Offerman e John Carroll Lynch che ad un certo punto si ritrovano, il personaggio di Ray, interpretato in questo film da Michael Keaton, protagonista di fatto assoluto in qualche modo, e in qualche modo ne rimangono travolti. Il personaggio interpretato da Keaton in questo film inizialmente, venditore che non riesce in realtà a sfondare come vorrebbe, è un uomo molto ambizioso infatti, questo Ray, ad un certo punto si ritrova una chiamata per addirittura sei, otto, addirittura forse, frullatori di quelli molto costosi o quant'altro che lui cerca di piazzare in giro senza successo. Cosa fa? A tratto da questo potenziale acquirente che vuole spendere così tanto, il nostro Ray viaggerà. Viaggerà fino alla sede dell'originale McDonald's, appunto, e qui rimarrà ammaliato dall'applicazione, per certi versi, della catena, diciamo in qualche modo operativa, che si è sviluppata in questo locale, appunto, con questi due fratelli che hanno ideato questo sistema di catena di montaggio, in qualche modo, applicata, appunto, al confezionamento e quantità degli hamburger, e che, in qualche modo, ha efficientato tantissimo il sistema di vendita dei loro prodotti e ne sta facendo la fortuna. Lui rimarrà rapito da questa efficienza, da questa prestazione, comunque, perché i prodotti valgono, e al tempo stesso cercherà, in qualche modo, di provare a vedersi applicato a questo mondo per cercare di ampliare ancora di più il tutto. Sarà lui e il contratto che stipulerà con i due fratelli che richiederanno di supervisionare comunque la cosa, a permettere l'espansione di questo mondo. Questo mondo fatto di efficienza, di efficienza e di spavalderia, ma soprattutto, come dice il personaggio, di perseveranza. Sarà questa sua perseveranza, continua e inarrestabile, che porteranno a poco a poco la nascita di tanti store, in giro per l'America, e che, a un certo punto, mostrerà il suo lato più negativo, tutto sommato, che, in qualche modo, è figlio di questa sua grande ambizione, ovvero sia, in qualche modo, di essere sempre di più, di avere sempre di più, per certi versi. Egli, infatti, in qualche modo, a poco a poco, se da subalterno ai due fratelli ha iniziato, in realtà diventerà la figura chiave. E, infatti, The Founder, per tanti versi, rappresenta come, in realtà, non siano i due fratelli il fondatore di tale impero, ma sia, in realtà, lui. Lui, che, a un certo punto, avrà avuto la brillante idea dell'affiliazione e, al tempo stesso, avrà avuto anche la brillante idea di tutto quello che è la gestione del suolo in cui si trovano i vari store e, quindi, ha fatto la fortuna di questo brand e, quindi, quella di se stesso. E' un film, questo, che, per certi versi, racconta la classica storia, se vogliamo, del mito americano, dell'uomo che si è fatto. Al tempo stesso, però, ne racconta anche, magari, dei retroscena molto negativi. Infatti, l'idea di base non proviene dal personaggio interpretato da Keaton, ma viene dai due fratelli. Due fratelli che vorrebbero ridimensionare la cosa e, sebbene siano volenterosi e vogliono, magari, espandersi un pochettino, ci abbiano già provato, in realtà, a un certo punto, per il mantenimento del loro standard di qualità e della loro visione, per certi versi, ad un certo punto hanno interrotto il loro tentativo di espansione. Ed è qui che, poi, è subentrato il personaggio di Keaton. Michael Keaton, questo interprete che, vabbè, io inevitabilmente posso aver visto, oltre che inevitabilmente per Batman, ad esempio, in Birdman, ad esempio, di Naruto, e che, negli ultimi anni, con il suo fare così, in qualche modo, alternato di simpatico e, al tempo stesso, negativo o cattivo, tutto sommato, poi con la sua mimica facciale esaltata, delle tante rughe che lo rendono a modi avvoltoio, fondamentalmente, diciamo che ha un'espressività anche eccessiva in determinati momenti, che però caratterizza bene il personaggio e che dà uno spessore, appunto, a questo, di fatto, cinico imprenditore, fondamentalmente, che magari inizialmente parte un pochettino più morigerato, anche se comunque sempre ambizioso, ma che poi, a un certo punto, non esiterà a cercare, eventualmente, di sfondare, anche galpestando, le due figure dei fratelli McDonald, appunto, da cui tutto è nato. È un film, questo, che racconta, quindi, di come l'ambizione dell'individuo possa, sì, portare a grandi cose, ma al tempo stesso possa schiacciare, possa schiacciare, magari, chi, eticamente, moralmente, potremmo definire la genesi di una buona idea, una buona idea che poi è stata, in qualche modo, se non snaturata, comunque, spinta, forse, un po' troppo oltre rispetto a quello che era il progetto originario. In rappresentativa, per certi versi, è tutta la questione legata, appunto, ai frullati, che i due fratelli vorrebbero essere fatti rigorosamente con latte, l'altro, invece, quando ne vedrà la possibilità per risparmiare qualche soldo, allora passerà senza scopoli, tra virgolette, a fare attraverso le versioni disidratate, imbustate in polvere. È un film, questo, tutto sommato, interessante. Non mi ha, chissà quanto, rapito, in realtà, come intrattenimento generale, personalmente, una decina di minuti in meno avrei preferito che durasse, però, tutto sommato, scorre via. Scorre via, Michael Keaton funziona, secondo me, abbastanza bene, in veste di protagonista-antagonista, che, in realtà, è una cosa un pochettino atipica, e, se vogliamo, come possiamo aver visto, ad esempio, in precedenza, con altre visioni che trattano il tema dell'imprenditoria, per tanti versi, sto parlando, ad esempio, del film The Social Network, David Fincher, abbiamo avuto modo di vedere, anche in questo film, un caso di un uomo che è riuscito a sfondare, eventualmente, appunto, schiacciando gli altri e, per questo, rimanendo, comunque, tutto sommato, una figura che, tutto sommato, è abbastanza controversa. Malgrado abbia, forse, delle lecite ambizioni, alla fine, comunque, la questione morale ed etica, tutto sommato, si pone quando vediamo personaggi del genere, o, almeno, secondo me, si dovrebbe porre. The Founder di John Lee Hancock. Se vi capita, recuperatevelo.